a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi voglio fare vedere il mio caschetto nazista per scusate le ditate sono fatte di acqua sia per giocare soft air sia per la motocicletta custom è un bel casco l'ho presso da temu costato 27 euro veramente bello e io presso c'è xl l per sia per giocare soft air che è buono sia vedete all'attacco da moto sia per portarlo nella motocicletta custom carino ve lo consiglio insieme al canale io parlo di tantissime altre cose come profumi accessori armi di tutto ragazzo quello di tutto andate alla sezione video da vedere un video che vi piace e a presto